Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Fina 1 fare attenzione per un veicolo fermo tra l'allacciamento per la 11 e Firenze Scandici in direzione Roma. Sulla FIBILI personale su strada per lavori tra il centro intermodale est e lo svincolo per l'Aurelia in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 VIS Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. A Firenze restringimenti e senso unico alternato in via Canova per lavori fino al 31 agosto. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!